Aspetta, quindi posso diventare un influencer? Sì. Ma il mio punteggio di intelligenza è 0 su 10. Non devi avere un punteggio di intelligenza alto per essere influencer. È fantastico! Ma aspetta, pensavo che gli influencer dovessero essere intelligenti. Non devono mica capire che contenuto portare, l'editing, l'invio delle mail e tutto il resto. Il tuo punteggio di intelligenza è quanto le persone intelligenti pensano che tu non lo sia, quanto in realtà sei veramente intelligente. Quindi in realtà sono intelligente. Beh, non lo so. Bene, grazie. Mamma, in realtà non sono stupido e ho anche trovato un lavoro che sarà perfetto per me. Tesoro, sei un idiota, accettolo e basta. No, il punteggio di intelligenza è quando le persone pensano che tu sei intelligente, non quanto sei intelligente in realtà. Oh, allora qual è questo tuo lavoro perfetto? Diventare un influencer. Un cosa? Sai tipo TikTok, YouTube, Instagram, cogliene di cose. Beh, immagino che ti andrà tutto bene. Sì, sono ancora espulso da scuola però... Omar... Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti